Ciao a tutti, sono Marco88 E io sono un mazzetesso e ho vinto la sfida La sfida western, uomo contro macchina, la macchina ha vinto Esatto, quindi io ho vinto Ma guarda Ci sei te stesso, guarda Salutati Che posizione Con le gambe incrociate pure Niente, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Untarned Addio Marco Ok E io colpirò gli zombie con la forza della lattina Oddio, la lattina, no! La lattina, no! Dove hai intenzione di andare? Di bello dove vuoi portarmi oggi? Mi porti in pizzeria, eh? 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 Offri tu? Sì, pizza zombie Pizza gratis! Ha detto pizza gratis! Esatto Perché gli zombie sono gratis, no? E la pizza, hai detto che è zombie, quindi la pizza è gratis Quindi pizza gratis per tutti gli iscritti a entrambi i canali da parte di Marco88 Basta scrivere 41, 41, 41 sul muro del bagno più vicino Certo Da che parte vuoi che vada? Sinistra Ok, allora andiamo a sinistra Dove hai detto come i porti di bello? Dove andiamo? Eh? 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 Dobbiamo andare Eh? Vediamo Qua si chiama Cray Crimson Village Finita sta strada c'è un villaggio Ah, ok Ma forse l'abbiamo rincontrato quel villaggio Questa strada fa schifo, come la morte Eccolo lì il villaggio Va pure dritto Vado dritto? Sì, sì, di cattiveria Di cattiveria Ma è quello dove siamo stati? No, non siamo stati qua Era simile Quando siamo stati? Scendiamo Verso l'infinito e oltre Io vado dalla polizia Polizia, Marco88 Abusa di me Abusa di me Ho trovato una benda Ho trovato un medikit Prima ci siamo tipo uccisi per trovare della roba Alla farmacia Invece qua dalla polizia Vanno più roba Che cosa è sta roba? Ah, sono dei pantaloni Però non mi piacciono questi Non possono Dei pantaloni non si scraftano neanche Porca miseria Ste pantaloni del giorno d'oggi Ti ho visto, eh Marco? Ma guarda che ti spacco la faccia, eh? Ti spacco la faccia la prossima volta che ti vedo Eh, eh, eh? Insomma Guarda che io sono il più meglio Hai visto che ho vinto io, eh? Con la macchina Chi è che ha vinto? Tu dicevi No, io sono più forte di una macchina Io corro più veloce di una macchina Io vinco tutto Perché io sono Marco88 E invece io mi sono rotto le gambe Adesso ti lancio No, no Prendi questo, no Cosa cagliari mi ha dato? Grizzly Che roba è? È un fucilazzo a bestia Grizzly e munition Ma non lo voglio Perché fanno solo casino Una maglia Ho una maglia addosso? Sì, ho una maglia addosso Ma credo che dovrò poi Farne delle bende Perché Dove sei mio Marco88? Sto guardando il fucile Marco88 Un attimo Ah, ti ho visto Guarda che ti spacco la faccia È la prossima volta che ti fai vedere Da queste parti, eh? Che Caspita Non mi fa prendere il fucile Oddio Mi ha colpito Alla Sprovvista Non mi fa più raccogliere le cose Ma forse non hai più spazio? Eh no È strano Allora Troppo la tannica Ma mi sta laggando a bestia Sai cosa vuol dire a bestia proprio? Con tre b A bestia No Certe cose non me le fa più prendere E ce le avevo io Boh Boh Stara laggando a bestia anche a te Quello zombie ha morso il nulla E io ho tirato un colpo sul nulla Facendo sanguinare il nulla Bello, eh? Wow Nulla nel senso che Le ceste non ho ancora mai detto che In febbraio ha intenzione di mettere sia le ceste che le farm Quindi Aspettiamo e speriamo Esatto Ancora non ci sono Hanno aggiunto però La possibilità di Girarsi e guardare Mentre si sta scalando Ho il 23% 5% Marco toglimelo Toglimelo Ok Oh Hai visto che volo che ho fatto? Eh sì Il medikit mi ha messo il 75% di vita C'è troppo oppi Solo di nuovo l'80% di vita Qua c'è dello scotch che non serve a un Kaiser Per ora C'è un fucile Ma niente di che insomma Niente di che Marco Sono 7 minuti che registriamo Uh Dobbiamo concludere Voglio vedere se col benzinaio là in fondo Ha della Ha della roba Ma è molto in fondo Tu prendi la macchina e mi raggiungi Sì così concludiamo il video Esatto Però intanto vado a vedere se il benzinaio c'ha qualcosa Eh? Sì? Lo facciamo un po' più lungo Ma al massimo lo tagliamo Una parte morta o due Cioè In 6 minuti quanti minuti saranno morti? Uno Basta chiedere uno zombie Secondo me se io chiediamo uno zombie il tempo morto è sempre No? Sbaglio Perché gli zombie non hanno tempi vivi Ok dove sei? Sono dal meccanico È quel coso rosso Poi c'è un'accetta Uh lascia Ah no è quello lì Lì c'è il pompieri prima Dall'altra parte del lago Va bene C'è un sacco di gente qua Facciamo festa? Certo Io non si riesco a prenderlo di sorpresa questo qua Non ci sono super zombie vero? Per ora no Non credo Oddio cosa ci sei lasciato dietro? Cosa? Ci sei lasciato dietro il tesoro Tipo? Dei chiodi c'erano? L'accetta Ma no l'ho presa l'accetta Credevo di averla presa Sì l'ho presa l'accetta Ce l'ho nel limitario Eh? E allora perché? Vabbè Ce l'ho in... Qua Comunque qua non c'è nessuna Che stanno io la vedo Non ci sono né tanniche né Allora le trovate da Perché io la vedo ancora lì La vedo ancora lì Allora forse ci conviene chiudere Già Ok Spero che vi sia piaciuto il video un po' più lungo Abbiamo due macchine adesso Uguali Ugualmente schifose Sì Non andartene però Bisogna di fare benzina Tu hai la tannica Io non sto andando via Sto posizionando la macchina Guarda che bella è posizionata il benzinaio Boh Io vi invito a lasciare un mi piace E un commento E iscrivervi ad entrambi i canali Spero che vi fosse piaciuto questo episodio Ci vediamo la prossima settimana Probabilmente sempre di mercoledì Da Mazzetess e Marco88 è tutto Ciao 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 Grazie a tutti.